Il problema che accetta la sfida di combattere con un avversario più grande di età E' veramente per nulla spaventato, quindi sarà sicuramente un grande atleta anche da grande Bravissimo il nostro giovane time boxer all'angolo posto che ha un'iniziativa continua All'angolo blue vediamo il nostro atleta che provava le tecniche alla corta distanza Non è sicuramente più avvantaggiato per questioni di altezza Ma trova sicuramente il nostro numero che risponde E c'è un progetto con tutta la fuga dell'agonismo Quindi un applauso che sapete che davvero stava dando un match tecnico Grandi, bravi Ecco durante il finuto di Ere Pucaro Prima, durante il tutto di Ere Pucaro, i vari maestri con gli atleti all'angolo Gli davano dei suggerimenti tecnico-strategici per la giusta tattica del combattimento Pronti da Pledia al centro, l'ordinario di questo torneo L'angolo rosso è il team Bottino contro l'angolo blue Prianza Fighting Direttamente da Morza Questa gara trianzale a Pledia al centro per la seconda e l'ultima ripresa di questo torneo Minori A Pledia ai propri angoli E te dico il migliore Vai Dentro o fuori Geni, dentro o fuori Bravo, lega, lega, braccia Ecco così, bravo Bravo, lega, 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 braccia Non cercare di prendere la gamba, lega Forza Bravissimi i nostri pugili I nostri Thai Boxer Grande il nostro giovane atleta Anora Maggi Accardi Gennaro Bravissimo Ha fatto tornare E la via con l'altra Tutto posto Sei stanco Non è neanche stanco Grande Infatti tra pochi minuti Avremo il piacere di vedere subito le gare Di contatto pieno Dove gli atleti partiranno contro i corpi Molto più parti L'ultimi contratti Ha fatto dei giudici di gara Per la lettura del contatto Perché crederà anche il vincitore di questo torneo Federale Muay Thai Per un'azione italiana di Muay Thai Attilità al centro Allora Questo torneo a minori Per la gara di Muay Thai A Lanzate In Pianza La decisione unanime dei giudici Viene premiare da Pletti Con un guardatto di parità Applausi per questo Dottomissima Pletti Grazie